E' stato sventato la scorsa notte intorno alle ore 22.30 da parte degli agenti dell'Europol di Alcamo un furto e danni di un cantiere posto nella strada statale 113 che collega Alcamo a Partinico all'altezza della centrale elettrica di proprietà della Terna S.P.A. Tre individui sono scappati dopo aver visto gli agenti dell'Europol. Alcuni container del cantiere presentavano evidenti segni di scasso che erano stati prelevati, alcuni bidoni di carburante oltre a diverso materiale edile. Sul posto intervenivano anche i carabinieri della compagnia di Partinico che conducono adesso le indagini.